Amici del terzo tempo, buon pomeriggio da Ovodda. Un saluto da Priamo Marrazzu, si gioca il derby barbaricino tra l'Ovodda e la capolista Tonara. Clima delle grandi occasioni nella terra battuta di Zanarina. Colorata di rosso-nero dall'arrivo di tantissimi sostenitori della squadra di Picciubiceli che prova a difendere il primato contro il granata di Currelli e Matto. Forfede l'ultima ora dell'arrivo, designato, dirige Denti di Olbia. La Vodda scende in campo con Ezzo, Sedda, Corraine, Corona, Soru, Augusto Vacca, Matteo Littarro, Currelli, Floris, Valerio Lotto e Tolu. In panchina ci sono Sodu, Marco Vacca, Antonio Lotto, Mastio, Sanne e Matto. Il tonare in campo con Paolo Mameli, Giuseppe Mura, Michele Mameli, Pira Spedes e Carlo Sau, Fabio Mura, Turco, Luca Sau, Talloru e Calaresu. A disposizione Tessi, Lorenzo Floris, Sergio Mura, Salvatore Floris, Currelli, Carboni e Su. Ovoda che gioca con la divisa bianca a tonare in maglia rosso-nero. Temperatura invernale anche se il sole sbuca all'orizzonte delle montagne barbaricine. Tutto pronto, si parte, calcio d'inizio per la capolista. Talloru cerca di liberarsi della marcatura. Lo scarico per Carlo Sau. La conclusione insidiosa mette in corne d'Ezzo. L'Oroda prova ad affacciarsi. Currelli e Floris. Il tentativo di girata non va. Brec del Tonara, Piras, subito per Giuseppe Mura. Apre per Talloru. Punta l'uomo, saltato, l'arbitro fa proseguire, forse c'era a fallo. Arrivano i saltatori del Tonara. Il cross, un secondo palo, il colpo di testa a Luca Sau la mette alta. Talloru. Per Giuseppe Mura, separabile negli inserimenti. Ancora Talloru, può calciare. Ancora lui, la gabbia dell'Oroda, non trova il marco. Floris cerca spazio. Il tiro e la palla esce non di molto. Duco. La mette in mezzo, esce Ezzo. Palabra buona, la conclusione, salva un difensore. Talloru, due contro uno, in aria c'è Calaresu. Talloru, se ne vai, Mezzos, sul portiere. Talloru, ancora Giuseppe Mura. Salta uno, il dribbling se ne va. In aria, in mezzo, Calaresu, gol! Tornare in vantaggio, ma attenzione, l'arbitro fischia fuori gioco. Qualche dubbio. Vediamo. Al momento del passaggio, forse Calaresu era in linea, con l'ultimo difensore. Punizione affidata allo specialista Pede. Vediamo se calcerà in porta. Ci prova la palla di imbalza davanti a Ezzo, che ne spinge. Angolo. Cross, la girata contro la Ezzo. Ancora Pentes. Direttamente in porta. Palla deviata dalla barriera. Comunque, ultimo tocco di Ezzo. Si riparte, il risultato sempre inchiodato sullo 0-0 tra Tornare e Voda. Nei padroni di casa c'è Sanna al posto di Matteo Littarro. Vediamo se cambia qualcosa dal punto di vista tattico. Coronas prova a suonare la carica. Spazio sulla destra. Discussione, attenzione. Palla buona. Floris, solo avanti a Montiere. Mameli di piede. Salvo, gol fatto. Prova a sfondare sulla sinistra. Calaresu, palla buona. È solo. La bomba alta. In mezzo. E spinge la difesa. Cerca di uscire la Voda. Piras. Prende la palla. Agganciato. Calcio di rigore. L'arbitro è sanzionato l'intervento. Aspettiamo la ripetizione per capire se la fallo. Sembra che il difensore colpisca il giocatore del Tornare. Bisogna capire l'entità. Dal dischetto va Pentes. Il tiro dei golli. Tornare in vantaggio. Esplode la gioia dei sostenitori rossoneri. La capolista sblocca il punteggio con Pentes. Calaresu. Ovviamente ancora lui. Fa spot al lato con gli avversari. In verticale. Passa il matone Floris. A tu per tu con esso. Centrale. Attenzione. Possibilità di metterla in mezzo. Fallo di Michele Mameni. Attenzione. Era già munito. E becca il secondo giallo. Tornare in dieci. Era già munito. Tutti dentro a quelli dell'Ovoda. Falla in aria. Attenzione. Passa intorno a serva di gambe. Incredibile. Fuori. Ultimo dei cinque giri di orologio. L'Ovoda non molla. Lancio lungo. Attenzione. Esce Mameli. Scontro aereo. Si prosegue. Coronas. Sulla destra. Cerca di entrare in aria. Contatto. Calcio di rigore. Pazzesco. Al quinto minuto di recupero. L'Ovoda. All'occasione per pareggiare. Attenzione. Quelli del Tonara si lamentano. Era rimasto a terra un giocatore nello scontro precedente. Aspettiamo la ripetizione per capire se da fallo. Valerio Lotto contro Paolo Mameli. Il tiro. De gol. Pareggio dell'Ovoda. Mameli è intuito ma non è riuscito a parare il tiro. Finale trilling qui al comunale di Zemarina. Proprio all'ultimo secondo arriva il pareggio. E ormai non c'è più tempo. Finisce 1-1. Grande prestazione del Tonara ma non è bastato per vincere il derby. Tutto su rigore. Peddes per la capolista di Valerio Lotto. Il pareggio dell'Ovoda. Mentre i giocatori del Tonara ringraziano i tifosi per lo splendido incoraggiamento. Vi saluto dopo di tutto. Grazie per averci seguito. Alle prossime partite del Caccio San.